Da che ora state lavorando? Dalle 6 a mese. Quante ne avete salvate? Non so il numero, sono 1000 in tutte. Una corsa contro il tempo, contro la corrente, il freddo dell'acqua che continua a salire per salvare quanti più capi possibile. L'errore fatale del pastore, che ieri sarebbe stato avvisato dal sindaco di Portobufolè, ma non ha creduto possibile che l'acqua salisse così in fretta a Pra dei Gai. L'avevo avvisato ieri sera. Una barca a motore, un canotto legato a una corda per portare in salvo gli animali, mentre gli altri pompieri, con l'acqua alla cintola, rimangono nell'acqua, sollevando il capo alle bestie perché non anneghino. Animali esausti, quelli che vengono portati a riva. Molti non si riprendono, altri sono già segnati dal freddo e dall'ipotermia.